Un giudizio assolutamente positivo, almeno allo stato attuale, quello espresso dal sindaco Giuseppe Nicosia allo schema di massima della variante del piano regolatore generale in queste settimane, oggetto di incontri e di assemblee cittadine sia scoglitti che anche a Vittorio. Un piano che è stato considerato più delle volte come il piano della discordia perché oggetto anche di critiche e polemiche che il sindaco in sede di conferenza stampa ha valutato e giudicato ingiustificate perché è un piano che punta allo sviluppo e non un piano che va ad ingessare il territorio come quello passato, un piano che punta all'omogenizzazione del territorio e su scoglitti un piano che mira all'edilizia turistica. Io penso che lo schema di massima abbia i suoi aspetti positivi ma che essendo uno schema di massima e che essendo in questo momento aperto al confronto con i cittadini ecco la città ci potrà dare le opinioni più opportune per farlo evolvere al meglio, ancora deve diventare poi atto formalizzato e poi addirittura dovrà diventare definitivo. E' una fase di ampio confronto con la città, noi ne vogliamo discutere con la città, accettiamo tutte le critiche, i suggerimenti, l'unica cosa che non si accetta e che appunto si contrastano sono le critiche infondate. Dobbiamo per esempio che il piano annulli le zone agricole, no, da semmai a mare nella fascia costiera dà l'opportunità agli agricoltori che vogliono continuare a fare, i sericoltori di poterlo fare, a quelli che vogliono dismettere dalla possibilità anche che queste zone possano diventare un domani di edilizia turistica e quindi dà un'opportunità in più, un valore aggiunto a quell'area oppure che sia eccessivamente sovradimensionato, no, è un piano che tiene conto del fatto che da qui a poco avremo l'aeroporto di Comiso e anzi siccome tutti lottiamo perché quest'aeroporto apre il prima possibile va tenuto conto che ci deve essere un'opportunità in più. Per il resto, siccome appunto la cosa importante è che vada confrontato con la città, si esprima pure la città, ci facciano pervenire suggerimenti, proposte. La cosa importante che stiamo facendo è evitare quelle piccole sacche ancora di terreni, di lotti che sono vincolati da tantissimo tempo alla gente. Noi vogliamo chiudere la stagione dei vincoli odiosi nei confronti dei cittadini. Ci aiutino anziché criticare aprioristicamente, ci aiutino a risolvere il problema.